Repsol analisi mensile giugno 2021 Buongiorno e benvenuti a tutti siamo in Spagna aggiorniamo questo titolo di cui abbiamo fatto soltanto un'analisi sul canale titoli come dico ultimamente meno seguiti ma è importante comunque vedere su tutti gli strumenti finanziari come queste dinamiche che stiamo seguendo funzionino e anche dare una linea guida anche per quei pochi che potrebbero essere interessati a un titolo magari o pochi o tanti non lo so io mi baso un po' su quelle che sono le visualizzazioni sul canale su quelli che possono essere interessati a titoli come ad esempio Repsol allora avevamo segnato un paio di livelli di target e di entry l'entry era stato fondamentalmente il riassorbimento del minimo di marzo che vediamo qua abbiamo si vede molto bene guardando il titolo da lontano guardando il grafico da lontano come dal 2009 si sviluppa il prezzo dinamicamente tra 15 euro e 6-7 euro quindi una fascia di prezzo abbastanza ampia ma comunque contenuta il prezzo non è mai riuscito a superare praticamente fondamentalmente i 15 euro 15,20, 15,30 e ha fatto da supporto il insomma questo minimo a 6,20, 6,6,20 circa il minimo di marzo ha rotto diciamo i minimi assoluti che erano del 2016 in area 6,38 e ha generato il nuovo minimo a 5,48, 5,50 circa riassorbito poi con il mese di novembre pensate non ha reagito subito anzi il titolo ha continuato poi dopo un paio di mesi di incertezza ha continuato a vendere minimi quindi a scendere fino a riassorbire nuovamente quindi bellissima l'operazione ingresso 5,53 stop 5,02, 5,03 andiamo ad aggiornare quindi vediamo un attimino da più vicino questa parte del grafico che ci può interessare per quello che riguarda insomma il periodo dal 2010 che è già comunque abbastanza ampio ad oggi ingrandiamo ancora un goccio per apprezzare meglio la dinamica del prezzo eccolo qui quindi abbiamo un target che forse si è spostato con l'aggiornamento del titolo allora quindi i target li abbiamo uno qui e l'altro qui eccoli qui ok quindi guardiamo ecco guardate siamo praticamente sul target il minimo di gennaio venduto a febbraio il primo target che era quello del minimo di febbraio venduto a marzo vedete testato anche tra l'altro a giugno subito e poi il prezzo è risceso è stato rotto con la candela di febbraio di quest'anno che ha chiuso decisamente sopra seguito poi da alcuni mesi di avanti e indietro e giugno quest'anno che va proprio a pizzicare questo secondo livello di target e il prezzo arretra quindi non riusciamo a quotare sopra il massimo di maggio, di aprile e di marzo non riusciamo a vedere il prezzo chiudere sopra e quindi rompere rendere invalido questo tetto questa resistenza a 11,63 il prezzo in questo momento sta arretrando vediamo dove posizionare un altro possibile livello di entrata intelligente di entrata interessante abbiamo sicuramente questa fascia di prezzo tra 8 e 9 dove poi abbiamo questi massimi comprati e poi andrei ad aggiustare questo livello sul massimo comprato di ottobre a novembre quindi due livelli molto interessanti praticamente il secondo, quello più basso praticamente sui minimi assoluti l'approccio giusto da avere su questo titolo è sulla parte alta della fascia di prezzo indicata quindi sulle 12, 11, 12, 13 liquidare le posizioni fino a quando non ci dimostrerà effettivamente oh scusate fino a quando non ci dimostrerà effettivamente che riuscirà ad andare a quotare sopra rompendo tutta questa parte alta sopra con uno swing più basso e poi andare ancora a crescere quindi fino a quel momento noi necessariamente operativamente parlando qua su primo questo primo livello secondo livello e poi qui sopra terzo livello che potrei anche indicare come terzo target giusto perché delimita una fascia di prezzo vedete tutto questo massimo venduto massimo venduto di nuovo guardate gennaio 2012 su dicembre 2011 quindi massimo venduto da cui parte questa discesa massimo venduto di settembre 2018 venduto a ottobre da cui poi parte tutta la discesa seguente quindi questo ultimo target quindi qua si può cominciare a parzializzare la posizione poi nel caso in cui il prezzo dovesse tornare indietro si può diciamo ricompletare riacquistando questo sempre per un approccio didattico corretto di come dovrebbe essere fatta insomma abbastanza in maniera intelligente una cosa e quando poi il prezzo comincia a quotare qua sopra cercare di puntare con l'ultima parte fino a 15 circa non andrei a meno insomma che io non abbia veramente intenzione di tenere questo titolo per quale motivo una vita non andrei a cercare oltre quindi insomma anche perché l'escursione tra 6 e 15 non è poco niente basta direi che possiamo salvare questi aggiornamenti possiamo decretare come le cose importanti non voglio neanche aggiungere troppe cose troppi livelli perché devono essere centrati, intelligenti, interessanti e funzionare quelli quindi metterne tanti come dico spesso è come non metterne nessuno detto questo mi posso fermare per Repsol è tutto l'appuntamento è tutti i giorni alle 14 col azionario mondiale lunedì sera materia prima e venerdì sera ETF l'appuntamento quindi è domani alle 14 e se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciare un bel mi piace ciao